Grazie a tutti. Sì, è vero, abbiamo già dimostrato di saper reagire quando magari i momenti non erano dalla tua parte, però sono sicuro che con la forza del gruppo riusciremo a portare a casa il risultato col Carpe. Cosa è che non è andata sabato scorso? Magari un atteggiamento mentale un po' troppo rinunciato da parte vostra, una serenità troppo aggressiva, anche l'ambiente, qual è stato secondo te il problema principale della partita scorsa? Sì, credo che l'atteggiamento alla cattiveria noi la mettiamo sempre in campo perché entriamo sempre per cercare di vincere le partite, come normale che sia. Le distanze erano un po' troppe tra i vari reparti e alla fine abbiamo preso gol subito appena siamo rientrati in campo e ci ha tagliato un po' le gambe. Dal tuo punto di vista invece fino a questo momento la tua stagione la puoi ritenere positiva, soddisfacente, c'è qualcosa che secondo te devi migliorare per arrivare un po' a uno step successivo, migliorare di più? Sì, credo che tutto sommato sia positiva e spero di fare qualche gol alla fine del campionato perché è una cosa che mi mangio un pochino le mani, perché so che posso fare di più. Ritiene anche che un po' l'impegno delle varie nazionali possono stancare fisicamente e mentalmente anche i giocatori sia delle varie nazionali, Under 20, Under 21. Per voi, per te personalmente è un problema oppure pensi che queste partite servono anche per fare gruppo sia anche in nazionale? Credo che sia un orgoglio per tutti far parte di una nazionale e penso che tanti giocatori devono convivere con questa cosa e dobbiamo riuscire a conciliare, come ho già detto, i due impegni e cercare di dare il massimo sia per la nazionale che per l'Ascoli. Le partite che rimangono sono tutte delle finali, quindi da affrontare con la grinta che avete avuto nelle occasioni tipo Verona e nelle partite in cui l'Ascoli si è comportata egregiamente? Sì, sì, è vero. Sono partite che adesso iniziano a contare davvero molto i punti perché le occasioni per fare bene e per magari alzare i punti della classifica sono sempre di meno e quindi dobbiamo cercare di non sbagliare più. Sei rientrato in campo a Salerno dopo tanto tempo. Come sono state le tue sensazioni durante questa partita che purtroppo non è andata benissimo? Sì, sicuramente è stata una brutta partita come ho detto prima. Le sensazioni sono stato molto contento perché erano sei mesi che non giocavo e tornare in campo è stata una bella cosa. I miei compagni mi hanno aiutato tantissimo anche in questi sei mesi che non ho mai giocato e quindi devo ringraziarli molto. A proposito, i tuoi compagni ti hanno dato per la tua professionalità che insomma anche se non sei entrato in campo hai sempre dato il massimo anche in allenamento e in tutte le occasioni in cui eri richiesto. Quindi adesso comunque si spera anche in un tuo impiego anche nelle prossime partite? Se sono riuscito in questi sei mesi a fare sempre bene, allenarmi sempre bene è soprattutto merito loro. Ogni allenamento, ogni volta mi hanno sempre dato una parola, una mano. Non mi hanno mai fatto sentire uno così ma mi hanno sempre fatto sentire importante, mi hanno sempre aiutato. Quindi se sabato dovrei giocare sarei contento, se dovessi giocare sarei contento ma se non accade pazienza. River Carpi insomma non è un avversario semplice ma la squadra aveva dimostrato anche nei momenti negativi di tirar fuori tutta la grinta che serve per poter superare l'ostacolo importante come è già successo in altre occasioni. Sì, è una squadra che dobbiamo stare molto attenti, conosce benissimo la categoria, il mister conosce molto bene la categoria, hanno vinto un campionato di Serie B ma io penso che questa squadra ha dei grandi valori e dobbiamo dimostrarli. Grazie a tutti.